Nel cielo vediamo la stella luminosa di Maria che orienta, rallegra, ci aiuta a vedere la luce e penetra nel buio. La Vergine ci accompagna sempre, anche durante il suo ultimo viaggio da Gesù, e ci aiuta a guardare in faccia la morte perché rimane sotto la croce. Sono le parole pronunciate da Monsignor Matteo Zuppi durante l'Omelia per la tradizionale messa dell'Assunta celebrata nel parco del seminario Arcivescovile nel tardo pomeriggio di giovedì scorso, momento conclusivo del Ferragosto a Villa Revedin. Siamo figli tutti difesi da lei, avvocata nostra, è un vecchio titolo di Maria, no? Per chi ha avuto qualche padre un po' così, in genere era sempre la madre che intercedeva, e dai non fare, aspetta un attimo, in genere era un po' così, avvocata nostra, che non si stanca di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi per mostrarci Gesù, perché a Lui siamo diretti ed è Lui che ci permette di vedere tutto. Insieme alla clemente, pia, dolce madre della nostra famiglia, vestita di sole, come abbiamo ascoltato, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, però vediamo anche l'enorme drago rosso che trascina un terzo delle stelle del cielo e le precipita sulla terra. È il male che divora la vita, svuotandola di significato e riempendola di paure. Una giornata di festa animata da giochi e attività per i più piccoli e dal suono del doppio alla bolognese terminata con la benedizione dell'arcivescovo dopo l'atto di venerazione ai piedi della piccola effigie della Madonna di Lourdes nel giardino del seminario. Grazie a tutti.